Ai piedi dei bastioni di Alghero, in uno scenario suggestivo, prenderà il via dal 30 giugno fino al 15 settembre la rassegna musicale Aquatica Sound. 13 serate con artisti locali che si esibiranno su un veliero d'epoca attraccato in un senatura del porto di Alghero, poco distante dal ristorante sul mare Aquatica. L'evento culturale è stato presentato dal direttore artistico Raffaele Noce, titolare dello studio grafico Eagle, che ha pubblicamente ringraziato gli artisti che si alterneranno nelle varie serate e che hanno contribuito alla realizzazione del progetto musicale, non solo con la loro presenza ma contenendo i compensi. Un percorso ideale con vari generi di musica, dal jazz al country, dei cantatori americani alle canzoni d'amore, in un repertorio che abbraccia le armonie di vari paesi come la Spagna, Cuba, Messico, Brasile, ma anche del folco italiano siciliano, sardo e del meridione in genere. Una combinazione di suoni, colori, profumi di mare, ma anche di sapori, perché ad ogni serata le esperienze sensoriali dei cuocchi del ristorante Aquatica delizieranno i palati degli ospiti in un perfetto connubio tra tradizione e comfort. La nostra è un'iniziativa privata, ricordato Antonio Costantino, titolare del ristorante Aquatica, ma speriamo che nel tempo si riconosca la validità di questo progetto rivolto principalmente ai turisti, sperando di poter ripetere la rassegna per molte edizioni. A corredo dell'iniziativa è stata anche creata un'app che contiene non solo le date e gli appuntamenti, ma consente anche di prenotare e ottenere un buono sconto del 10% con la semplice registrazione. Un'applicazione scaricabile da tutti i dispositivi e che fornisce anche una serie di informazioni turistiche sul territorio e sulle eccellenze algheresi in tutti i campi.